Un saluto, come state? Ben ritrovati? Invito come sempre a iscrivervi qui sul logo L, lasciate un bel like, commentate numerosissimi, mi raccomando. Allora, andiamo subito con una notizia molto importante perché, ovviamente con prudenza però, possiamo abbastanza sbilanciarci sul fatto che in questo momento ci sia stato un riavvicinamento molto importante per quanto riguarda il futuro e il rinnovo tra il Milan e Raphael Leao. C'è stata una proposta che pare possa essere accettata, al Milan c'è sempre stato un cauto ottimismo e sembra che questo abbia trovato riscontro nei feedback col giocatore che sembra possa mettere finalmente la firma sul rinnovo del contratto. Probabilmente per un contratto non con scadenza 2027, più breve, una soluzione tampone che però insomma farebbe felici tutti il giocatore che andrebbe a prendere anche più soldi, il Milan che non avrebbe appunto più la necessità di venderlo per forza in estate o di svendere in estate avrebbe sicuramente poi un potere più economico superiore sul suo futuro. Ovviamente prudenza perché è stata una trattativa ed è una trattativa lunga, con alti e bassi, momenti in cui sembrava e poi c'è stato il colpo di scena però in questo momento, forse mai come in questo momento, Milan e Raphael Leao sono stati così vicini a rinnovare il loro contratto. Vediamo se nei prossimi giorni ci può essere l'epilogo positivo o la fumata bianca, ripeto sono momenti davvero molto importanti per definire il futuro di Leao e anche del Milan su questo fronte. Ditemi che cosa ne pensate, vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale in cui parliamo di tutto, in questa zona sul logo L attivate la campanella, lasciate un bel like, commentate numerosi con il vostro punto di vista. Ci vediamo presto per altri aggiornamenti, un abbraccio e viva il grande calcio. Un saluto a tutti, vediamo come va a finire questa telenovela, in questo momento sembrano molto vicini. Sembrano.